Come da tradizione, dopo l'estate e ad ogni inizio di attività agonistica, diversi dirigenti di società sportive di Vittoria si ritrovano insieme per mettere a punto e discutere sugli orari di allenamento delle rispettive squadre al palazzetto. Una riunione in tal senso è andata in porto proprio qualche giorno fa e come spesso avviene ogni anno. Per qualcuno, come ad esempio le presenta la camerina Volli e Leo Murghiana, orare e presenza nella struttura sportiva non fanno una piega, anzi sono ottimali e non presentano intoppi. Per qualcun altro invece, come ad esempio il professor Alfio Occhipinti, ex coach della Val di Paribasket, l'impianto sportivo continua a rimanere insufficiente e inadeguato per ospitare gli allenamenti e la preparazione di numerose società cittadine. Occhipinti si meraviglia anche del fatto di come sia possibile che una città di oltre 60.000 abitanti abbia una sola struttura sportiva al coperto e a chi gli fa notare che al limite ci sono sempre le palestre scolastiche, il giudizio rimane sempre negativo, anche in questo caso di Occhipinti, strutture insufficienti. La riunione è servita anche a ufficializzare poi l'uscita, tra virgolette, della squadra di calcetto maschile di Serie D che non potrà più disputare al palazzetto le gare di campionato. La società Ipparino infatti, dopo i noti fatti di cronaca di qualche anno fa, si è vista chiudere le porte dell'impianto cittadino.